Impegnati! Non cazzeggiare! Tira su le mani! Fai così! Senti le sue mani, avanti! Tieni sulle tue! Senti le sue mani! In linea! In linea! Maledizione! Un'altra femminuzza! Vuoi ammazzarli tutti? Tra poco abbiamo un torneo! Cazzo! Roy, portate il ghiaccio! E chiama il portoricano, quello che vive nelle baracche! Se arriva in venti minuti, gli do 200 verdoni! Fatto io con lui! Fai il favore ragazzo, torna al sacco, qui puoi farti male sul serio, fai! Vieni, appoggiati a me! Ehi Rocky! Mickey e Poli li hai lasciati a casa oggi? Ha il telefono staccato! Spuccia l'elenco, trovami qualcuno, chiama Joe Bones! Te lo ridico, se ti serve qualcuno per il tuo ragazzo, io gli do volentieri una bella spazzolata! Mi hai mai combattuto? Sì! Ehi, mi ha già firmato il modulo? A posto! Come ti chiami? Tommy! Se ti fa pezzi un problema tuo papi! Sì, lo so, lo so! Ok, vieni! Ok, vai! Ehi, attento ai denti! Vuoi fare l'eroe? Ok! Forza! Attento al calcio! Alla testa! Tranquillo! Alla testa! Muoviti di più! Ma venilo! Andiamo, sei più fuori! E' lei! Doci! Oh, grazie! L'espatra! Levatelo di dosso! L'espatra! Alzate! Yes! Copriti! Non dargli la schiena! Non farlo! Copriti! Cazzo! Copriti! Stop! Cazzo! Mi devi duecento verdoni.